In questo video parleremo della mobilità del personale ATA, cioè il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. Andiamo a vedere come si compila l'allegato D della dichiarazione dell'azienda del servizio del personale ATA. Si scrive il nome e il cognome, si scrive la data in questo spazio di assunzione nel profilo di attuale appartenenza in ruolo e in quest'altro spazio se ci sono stati periodi di aspettativa senza assegni bisogna indicare quali periodi di aspettativa senza assegni in questo spazio sono stati fruiti. Dopodiché si passa proprio al calcolo degli anni e dei mesi di ruolo dell'attuale profilo di appartenenza e si poi si anche definisce il numero di anni e di mesi derivati dalla retroattività giuridica ma coperti da effettivo servizio nel profilo di appartenenza e poi ancora il numero di anni e di mesi prestati in scuole e site in piccole isole sempre nel profilo di appartenenza e anche il numero di anni e di mesi vedete qui dove va inserito del servizio effettivo nel profilo di appartenenza in scuole ubicate in paese in via di sviluppo. Tutti questi servizi vanno sommati fra di loro e inseriti nella casella numero 1 della domanda di mobilità del personale ATA. Poi nella casella 2 della domanda di mobilità ATA vanno inseriti gli anni e i mesi di servizio effettivo però svolto con una decorrenza giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio, vanno inseriti in questa tabella qui. Come anche sempre nella casella 2 va inserito un altro tipo di servizio, quello che si fa ai sensi dell'articolo 58 del contratto collettivo nazionale sottoscritto nel 24 luglio 2003, ovvero sia quelle supplenze che vengono prese dal personale in ruolo che si mette in aspettativa dal ruolo di attuale appartenenza e va a svolgere delle supplenze. Ecco qui questi due prospetti, queste due tabelle vanno inserite nella casella numero 2 della domanda di mobilità del personale ATA. Nella casella invece 3 della domanda di mobilità del personale ATA vanno inseriti i servizi del preruolo che vanno indicati proprio in questa tabella, compresi i servizi di ruolo prestati nella carriera inferiore. Inoltre, qua sotto vedete, si vedono il riepilogo degli anni e dei mesi del servizio prestato ai fini della progressione della carriera e vanno inseriti anche, e si vede scritto in questo punto B, il servizio militare di leva o per richiamo al servizio equiperato alle condizioni previste dalla normativa vigente, dal al pari ad anni e mesi e poi infine nel punto C vanno inseriti il numero di mesi trascorso per lo svolgimento del servizio preruolo ma in piccole isole. Sommando tutti questi servizi, questi vanno messi al punto 3 della tabella della domanda di mobilità. Per quanto riguarda le piccole isole vanno anche inserite in questo riquadro scrivendo dalla AL la qualifica del preruolo che si è svolto e la scuola in cui si è svolto questo servizio. Nel punto 4 poi bisogna scrivere gli eventuali servizi in pubbliche amministrazioni o enti locali ad esclusione dei periodi già precedentemente dichiarati. Così poi si fa la data e si firma e si inserisce nella gestione allegati e poi si allega la domanda da presentare, la domanda di mobilità da inviare tramite istanze online. Vi ringraziamo per averci seguito il nostro video e speriamo che questo video vi sia stato utile. Vi consigliamo di seguire il nostro sito www.technialascuola.it e di seguirci anche nel nostro canale YouTube perché faremo altri video sulla mobilità. Arrivederci a tutti e in tal caso anche tanti auguri di buona Pasqua. Grazie a tutti.